Ariel Winter Trendsetter Ariel Winter Trendsetter, il sexy top mostra la zona Underbob La mania di quest'anno è l'Underbob. Basta con le scollature provocanti che mettono in mostra la parte sbagliata del décolleté. . Se vuoi davvero dare prova ai tuoi ammiratori che il tuo seno non ha bisogno di sostegno, devi mettere in mostra la parte di sotto. Per quanto riguarda Ariel Winter, 19 anni, si può dire che la sfida è superata. . Ariel Winter, curve pericolose. La stellina di Modern Family sa come riscaldare l'atmosfera del suo profilo Instagram con una serie di scatti tutti da lustrarsi gli occhi. . Dopo la sua ossessione per gli shorts e i da Easy Dukes che ha spaccato l'opinione pubblica, adesso è il turno del trend più estremo e sensuale degli ultimi tempi, l'Underbob. Se non sapete cos'è, è presto detto, solitamente amiamo mostrare la parte sopra del nostro décolleté. . . Per dare veramente prova che il nostro seno si regge da solo, però, adesso va di moda mostrare la pienezza della parte sottostante, senza naturalmente esporre il capezzolo. . Nello scatto provocante, Ariel Winter si mostra di spalle, con un mezzo sorriso ammiccante celato dalla spalla nuda. . 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